Allora Patrick També, una buona posizione sulla linea di partenza per il debutto con la Ferrari qui a Zambor? Beh, la velocità c'era durante le prove, ma ho avuto qualche problema con il collo come tenuta nelle curve lunghe, dei problemi con i muscoli Tu puoi ancora migliorare, hai dei margini per conoscere la macchina, per abituarti al turbo E abbiamo lavorato molto, soprattutto sul piano personale, dicevo Il Vero També, in forma Ferrari, lo si vedrà a quanto? Tra quanti Grand Prix? Beh, al Gran Premio di Francia, al Gran Premio di Francia sarò a posto